Parliamo di campagna 6, mi scuso in anteprima per la location perché ovviamente era il punto più comodo per poggiare il telefono e soprattutto per il mio look perché comunque con il caldo uno non riesce proprio a truccarsi o cose varie quindi proprio assolutamente no Facciamo un video velocissimo, vi faccio vedere i prodotti che hanno acquistato le mie clienti e niente iniziamo subito, bando alle ciance, vi faccio subito vedere che cosa mi è stato preso Allora, tanto per cominciare sono arrivati dei prodotti che io avevo ordinato nella campagna precedente però purtroppo non mi erano arrivati e sto parlando dei famosissimi coperchietti in silicone che sono il set da 6 pezzi e addirittura dicono di avere 2 anni di garanzia sono molto comodi perché sono dei coperchi che possono essere adattati a qualsiasi tipo di forma sia per quanto riguarda le ciotole, per quanto riguarda i coperchi, le pentole e cose varie insomma, cocomero, sono veramente molto utili e questi stavano, per quando li ho ordinati io, non mi ricordo adesso che campagna era però stavano sui 17 euro adesso, visto che avevano abbassato a 15 euro però non so se ancora, devo visionare ancora il catalogo però non so se non sono ritornati di nuovo a prezzo più alto o se sono ancora scontati comunque mi sembra che stanno ancora scontati perché comunque se voi ordinate tramite di me posso andare indietro di una campagna e quindi eventualmente sia in campagna 6 che in campagna 5 mi sembra che stavano su 15 euro comunque qualsiasi cosa collegatevi sul mio sito e vedrete tutto questi sono quindi i coperchietti poi mi avevano ordinato del set di Diamond questa bellissima caraffa che è veramente veramente bella non è in coccio, è in plastica, dura però è veramente grande, molto capiente, bellissima questa, se me l'hanno rimessa qui, vediamo quella qua stava a 10 euro e 50 quindi c'è sia la caraffa, mi ha ordinato questa cliente che è anche il piatto da portata vedete? è bellissimo anche questo sempre plasticatura, veramente colore molto bello sembra veramente, a guardarlo sembrerebbe di coccio in realtà invece è plastica molto utile per quando uno ha gli ospiti o anche semplicemente per la quotidianità di casa e questo, anche il piatto da portata stava a 5 euro poi, questo è il famosissimo piatto girafrittata è stato veramente un successo ho visto tantissime colleghe che addirittura ne hanno acquistati a quantità anche di 50-80 pezzi non so, insomma, erano praticamente usciti fuori produzione erano usciti veramente e finalmente mi è arrivato me l'hanno ordinato questo ha un costo di 3 euro ed è semplicemente un piatto che va messo sopra la nostra pentola per poterci aiutare a rigirare e fare la nostra frittata quindi sicuramente lo proveremo anche se questo non è per me però i miei clienti mi dicono sempre poi come si trovano con i prodotti quindi sicuramente sarà da provare anche questo bene, poi mi è stata ordinata la BB Cream della Nutra Effect eccola qua questa è la sua scatolina e questa praticamente è la nostra BB Cream questa è la Medium Radiance quindi è per quello per le pelli normali poi c'è anche quello per le pelli grasse e questa stava in offerta a 7,99 euro poi, veloce veloce poi rimettiamo tutto bene abbiamo gli smalti ovviamente questi sono per me dato che io mi trovo bene io mi sono presa sempre della linea Pro Color 60 ho preso il Rabbit Fire che ha questo colore bellissimo qui per l'estate ma anche insomma adesso che andiamo incontro all'autunno rimane leggermente acceso ma più scuro ed è veramente bello mi sono presa anche della linea Crushed Crystal ovviamente avevo già quello Fuchsia mi sono voluta prendere il Pearl questa è la sua scatolina oddio scusate ecco qui la sua scatolina e questo è lo smalto veramente bellissimo glitterato questo è uno smalto che dura veramente almeno una settimana perlomeno su di me io ho ancora veramente da due settimane e oltre anzi più io ho messo questo smalto sui piedi e adesso mi sta cominciando a sbeccare ma lo ho messo il 2 di agosto stiamo al 20 oggi al 24 quindi immaginate quanto durano e sono veramente belli e questo è il perlato non so se riesco a metterlo a fuoco però perché c'è un po' di luce bene questo ovviamente scusatemi questi della 60 mi sembra che stanno su 2,99 2,40 non mi ricordo aspettate ah eccolo qua 2,45 mentre questo sta sui 3,50 euro 3 euro aspettate che lo cerco allora mi sembra ah eccolo sta sui 3,50 euro questo qui costa un pochettino di più infine questo mese c'era la la novità del top coat mat questa è la sua scatolina come vedete e questo è semplicemente il top coat è semplicemente un top che va messo su qualsiasi nostro smalto che abbiamo lucido o anche della linea pro color questa qui della Avon e rende il nostro smalto da lucido a opaco quindi è da provare l'ho voluto provare quindi l'ho preso per me e questo stava in offerta questo mese dove l'ho visto eccolo qua a 2,45 euro praticamente c'era l'offerta di prendere due smalti a 5 euro se non mi sbaglio di prendere io infatti ho preso questo Rapid Fire e ho preso il top mat poi andiamo avanti e abbiamo il set se non mi sbaglio questo set della linea Advanced Techniques o scusatemi Techniques dell'Ultimate Shine abbiamo il condition il condition air che altro non è che il balsamo abbiamo il balsamo abbiamo lo shampoo e abbiamo il questo era il siero illuminante tutto questo tris come ben vedete era soltanto a 10 euro e 50 in offerta una cliente me l'ho preso e veramente sono ottimi questi prodotti io li utilizzo infatti questa volta per me ho preso quest'altro lo shampoo loss control praticamente è sempre della stessa linea della Advanced Techniques e questo è comunque sempre per i problemi diciamo di caduta dei capelli ho voluto provare quest'altro perché ho preso il reconstruction insomma come si chiama quello rosso e adesso voglio provare a prendere anche questo e provarlo poi questo sta comunque stavo in offerta stavo in offerta dove l'ho letto prima eccolo qua a 3 euro e 99 poi mi è stato preso il profumo degli Avengers per i bambini questo stava a 9 euro e 90 se non mi sbaglio 9,99 ed è semplicemente un acqua di colonia per i bambini il profumo non so se si sente buona per i maschietti in questo caso ma ci sono anche sul catalogo per le femminucce mi sembra di frozen se non sbaglio poi abbiamo preso una cliente mi ha ordinato il blush pesca questo qui della Avontru questa è la sua scatolina e questo praticamente è il blush con scusatemi se lo piego troppo con il suo pennellino il suo specchiettino e il blush questo sta in offerta a 6 euro e 99 si chiude con la sua scatolina e abbiamo ovviamente questo fard poi abbiamo preso l'eliner della Power Stay quello che dura 16 ore nero questa è la sua scatolina e questo è l'eliner della Power Stay ovviamente questi sono tutti quelli che non vanno temperati ma hanno questa possibilità di uscire fuori senza essere temperati e questo stava anche questo se non mi sbaglio in offerta in offerta vediamo se lo ritrovo che purtroppo per guardare tutti i prezzi ecco a 5 euro e 50 poi abbiamo sempre questo dovrebbe essere sempre della Power Stay a World True dovrebbe essere il correttore a crema golden light eccolo qui ovviamente questo non lo apro perché questo è il packaging si toglie la pellicola tanti di voi e dentro ovviamente c'è il colore vero e proprio questo anche stava in offerta mi sembra a 6 euro e 99 sempre della Power Stay e infine mi sembra di avervi fatto vedere tutto infine ma non per ultimo abbiamo una cliente che mi ha acquistato due caricatori a specchietto questa è la scatolina che va chiusa e questo è il caricatore che troverete all'interno ovviamente avrà la sua pellicolina diciamo per non farlo rompere il suo sacchettino in seta o finta seta insomma così dove si può riporre per non farlo graffiare e rovinare e questo è il caricatore portatile con il cavetto USB e per caricare all'ora corrente fa funzione da specchietto quindi se noi lo abbiamo in borsa ovviamente ci possiamo specchiare tranquillamente altrimenti ci carichiamo il nostro telefono e all'interno della scatoletta ovviamente troviamo anche il cavetto USB non l'ho tirato fuori però ovviamente eccolo qui c'è quindi è veramente grazioso e questi stavano in offerta a 6,99€ se non mi sbaglio mi sembra sì 6,99€ bene mi sembra di avervi fatto vedere tutto ovviamente il prossimo catalogo che avranno le mie clienti sarà questo la campagna numero 7 quindi ci saranno tantissime offerte sui rossetti nuove novità questo che sta in prima pagina infatti è l'attesissimo gloss a specchio per le labbra quindi quello che ci darà una lucidità veramente specchiata e vi consiglio di provarlo ci saranno tantissime altre novità che poi vedrete per chi mi segue nel mio sito e niente è anche uscito ovviamente il profumo Attraction One lui-lei quindi ci sarà la parte di lei e la parte di lui come profumazioni quindi vi consiglio di gustarvi il nostro nuovo catalogo sfogliarlo veramente in tutte le sue pagine e troverete sicuramente tantissime offerte e tantissimi prodotti per voi bene questo è tutto spero di avervi tenuto compagnia spero come sempre che il video vi sia piaciuto se è così un pollice in su iscrivetevi al mio canale se non l'avete fatto alla mia pagina facebook Avon per te e noi come sempre ci vediamo alla prossima io vi mando un grosso bacio e vi saluto ciao